buongiorno a tutti e benvenuti all'analisi ciclica evoluta su dax e footsimib del lunedì mattina oggi lunedì 18 maggio tra le rondini che finiscono e i caffè che finalmente aprono ecco tante buone notizie la prima è che il chip piccolo chip long lasciato in over night strafruttando bene perché i future a meno che poi non si cambi idea alle 9.01 su germania sono a rialzo di 180 punti circa mentre invece su italia sono 190 sono comunque tanti tanti punti e quindi ci si avvicina a quello che era il target naturale che vi davo già nell'analisi di sabato o domenica a 10.660 andando a chiudere completamente appunto il gap down ed andando a superare questo massimo per cui vediamo se effettivamente l'apertura confermerà quello che vi sto dicendo a livello di future e caspita per me inizia a essere già una splendida settimana come inizio 180 punti in più in tasca fa sicuramente piacere quando avremo però avuto l'apertura come al solito dobbiamo andare a fare un po' i conti e comprendere alcune cose primo se appunto qui non ha chiuso a 21 bar il quinto t-3 inverso come mi auguravo bisognerà vedere a che ora vorrà andarlo a chiudere perché basterà in realtà una candela per arrivare oltre le 24 chiuderlo e poi iniziare a fare un movimento di un t-5 inverso a rialzo ovvero a ribasso di indice per poi vedere come muoversi successivamente in giornata sappiamo che identificata la partenza del nuovo t-3 inverso il sesto per la precisione se avremo una violazione del massimo da cui partirà avremo segnale un bel segnale long faccio notare anche un'altra cosa piccole divergenze portano a grandi risultati le divergenze mi sono reso conto che non le conosce praticamente nessuno per bene perché sono dei due tipi e le persone non riescono a identificarle fate formazione su voi stessi ci sono un sacco di libri che parlano di divergenze un po' di formazione serve sempre a tutti anzi più fate formazione più individuate cose piccole come queste più vi portate a caso degli ottimi trade quindi altre riflessioni dopo l'inverso dopo che vi è chiuso l'inverso dobbiamo andare a vedere come chiuderà il secondo t-3 è partito alle 14 magari chiuderà in concomitanza dalla partenza del sesto t-3 inverso e poi vedremo come spingerà al terzo perché siamo proprio all'inizio noi del nostro t per cui il trade long a meno che non ci siano dei movimenti particolari che vadano a violare determinati swing può essere tenuto per un pochino di tempo può essere una posizione eventualmente controllandola tutto il tempo che può essere lasciata un po' andare avanti per far partire appunto quello che potrebbe partire da qui ovvero un nuovo t2 mensile interessante? aiuto vabbè non riesco ad avere il tempo per rifare il video per cui scusate per il rumore della differenziata del vetro allora passiamo anche al nostro Fuzzimib e per il Fuzzimib semplice come cosa di nuovo siamo a più 195 punti quindi la proiezione ci porta orientativamente a 16.918 qui 918 ah non tanto caspita vabbè comunque ci porta in questa zona qua bisognerà vedere innanzitutto se andremo a superare nel momento più fragile l'accumo e quindi se verremo proiettati sopra questo massimo a 16.995 vedete quanto più bassa è la forza relativa del Fuzzimib in quel caso seguiremo tutto quello che c'eravamo già detti per quanto riguarda il nostro altro DAX direi che è tutto non c'è non c'è molto altro da dire se non guardate anche sempre questo grafico delle medie mobili se l'apertura avrà a un certo livello per quanto riguarda il DAX ovvero se confermeremo circa 10.635 andiamo a vedere se ci sarà ancora spazio per arrivare in quest'area 10.666 e successivamente anche senza il mio algoritmo avete un altro target 10.856 di questo momento perché ricordate sempre che vanno aggiornati in base ai movimenti i nostri i nostri target sono dinamici come i prezzi e come i volumi vi ringrazio per l'ascolto mi spiace per le due cascate di vetro la giornata sarà splendida perché ho deciso così e sicuramente con un'apertura così in rialzo non posso che essere già contento buona giornata a tutti e se il video vi è piaciuto mettete un like